Gabri, Ivo, abbiamo sentito che volete andare in pensione e siamo rimasti delusi, mica per tante cose, perché se uno deve andare in pensione è meglio che vada in albergo, magari a 5, 6, 7 stelle, non lo so, fate voi, ecco, va bene? La fantasia la manca mai, avete fatto bene, avete fatto bene, venga sempre delle risorse extra, ciao belli tutti, ciao, 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 ciao.